buongiorno 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 del costa rica qui in questo momento vedete le mie spalle sono immerso nella foresta della foresta di playa penca playa penca che ve la faccio vedere subito eccola qua eccola qua la bellissima playa penca oggi è un giorno feriale per cui vedete c'è tantissima confusione ok adesso è mattina anche presto e dobbiamo essere sinceri per cui c'è poca gente anche per quello ma fidatevi che qui non stiamo a mezzo metro uno dall'altro assolutamente no siamo belli larghi belli tranquilli fa quello che si vuole senza nessun problema piagge bellissime enormi e tutte diverse ma oggi di che cosa vi parlo oggi parliamo principalmente di investimenti di investimenti immobiliari in costa rica e in particolar modo perché investire in costa rica e l'importanza delle tre r importanza delle tre r e adesso le vediamo quindi seguimi fino alla fine di questo video perché ti sto dando delle informazioni molto molto importanti allora partiamo dal principio perché investire in costa rica allora un investimento immobiliare costa rica in questo momento è importantissimo importantissimo al di là di uscire con dei capitali con le tue parte del tuo patrimonio dalla situazione europea che in questo momento non è delle migliori dal punto di vista finanziario economico ok e quindi avere una tranquillità anche del famoso piano b della famosa riserva della famosa diversificazione anche in un paese diverso in un paese che ha delle caratteristiche diverse il costa rica considera che dal punto di vista dello sviluppo dell'economia è un paese in pieno in pieno sviluppo fa parte appunto dei paesi del centro america però è un paese diverso da tutti gli altri del centro america in che senso nel senso che è una repubblica presidenziale ormai da ancora prima di conoscere che cos'era l'italia ok quindi ai primi anni del 1800 ha una stabilità di conseguenza politica molto molto forte e c'è una democrazia bella che continua che non dà nessun tipo di problema e ha una strutturazione finanziaria molto simile alla nostra quindi con le banche con la certezza della proprietà con la certezza del diritto con il catastro elettronico addirittura per il settore immobiliare quindi delle caratteristiche molto molto importanti per tutti che ti affacci magari anche per la prima volta un investimento immobiliare all'estero naturalmente che cosa succede succede che flor del pacifico con 30 anni di esperienza qui in costa rica ti può accompagnare tranquillamente a fare un investimento in totale serenità in totale sicurezza e in totale assistenza cioè noi ti seguiamo dall'inizio fino a che rimarrà il nostro cliente per sempre sia nell'acquisto sia nella gestione sia nelle rendite che questo investimento immobiliare ti può dare assolutamente è molto importante e pian piano arriviamo alle 3r investimento che naturalmente si possono fare con le nostre due linee un investimento in quota che non è la multiproprietà attenzione in quota oppure in piena proprietà cioè avendo la gestione globale del tuo investimento immobiliare ma di queste cose qui naturalmente se ti interessano mettiti in contatto con me mi contatto con flor del pacifico senza nessun problema dove vedi questo video puoi cliccare e chiedere maggiori azioni perché oggi non voglio fare un video lunghissimo perché gli investimenti costa rica meriterebbero un aumento enorme che ricordati che questo approfondimento noi lo diamo nei nostri viaggi esplorativi noi ti facciamo toccare con mano che cosa vuol dire fare un investimento in costa rica siamo una delle poche aziende anzi l'unica azienda in italia specializzata esclusivamente su costa rica quindi che cos'è che puoi fare ti metti in contatto con noi noi ti facciamo vedere le date dei nostri prossimi viaggi tu vieni qua 10 giorni sembrano tanti ma non lo sono per gli imprenditori e per le persone che vivono alla massima velocità la loro vita vieni qua e hai tutto il tempo seguito da noi di capire di che cosa stiamo parlando di che paese è e di che cosa e perché è importante investire qui in costa rica e che grandi ritorni ti può dare l'investimento ma dei ritorni e delle rendite parlereò in un altro video quindi torniamo alle famose 3 R ricordi bene la prima R è un investimento fatto con flor del pacifico in costa rica la prima R è la possibilità di rivalutazione cioè tutti i nostri immobili tutti gli investimenti che tu farai con noi nel giro di un tempo medio attorno ai cinque anni hanno una rivalutazione assicurata considerate che negli ultimi ormai cinque sette anni la rivalutazione media qui in costa rica è stata attorno il 10 per cento all'anno e continua ad andare avanti continua a proseguire in questo andamento quindi prima R importantissima è la rivalutazione la seconda R è il rendimento come sono pochissimi paesi che vantano un clima stupendo 12 mesi all'anno e costa rica è uno di quelli costa rica per 12 mesi all'anno è alta stagione ok qui anche se la stagionalità si divide l'anno si divide in due stagioni la stagione secca la stagione umida anche la stagione umida non ci sono i monsoni non ci sono le grandi piogge ci sono dei periodi più umidi ma che non sono mai l'umidità che siamo abituati in italia si sta bene sempre ventilato sempre dai 30 ai 35 gradi 12 mesi all'anno quindi anche il tuo investimento di conseguenza ha una rendita che è proporzionata ai 12 mesi non si parla di stagionalità non si parla di necessità dell'inquilino eccetera no qui si lavora sul breve e sul lungo termine con tantissimi turisti tantissime persone che vengono in costa rica da tutti gli stati uniti dall'america dal canada da tutta l'america del sud eccetera e dall'europa 12 mesi all'anno quindi capisci che hai un investimento con una rendita molto molto importante ma andiamo alla terza la terza r la terza r questo video sarà un pochettino lunghino ma molto molto interessante la terza r è la rivendibilità ragazzi dopo la rendita dopo la rivalutazione altro fattore fondamentale di un investimento e che qui c'è investigliare la rivendibilità bene te lo dico in massima sincerità il nostro gruppo di pacifico nel momento in cui tu vuoi rivendere la tua proprietà immobiliare si dice tranquillamente bene non avere fretta ok noi mediamente al massimo proprio il massimo del massimo nel giro di sei mesi vendiamo a casa il tuo immobile la sua quota che hai acquistato ti giuro che negli ultimi due anni non arriviamo neanche ok quindi tutti gli investimenti flor del pacifico tu li puoi rivendere in tempi veramente molto brevi ma attenzione ho detto vendere non vendere ok qui si vendono qui si portano a casa la rivalutazione si porta a casa la rendita e si porta a casa una rivendibilità della piena proprietà perché qui si compra in piena proprietà con iscrizione al catastro elettronico ok senza bisogno di soci senza diritto di superficie senza niente quella piena proprietà e la puoi rivendere in qualsiasi momento senza nessun problema quindi hai capito quali sono perché sono importanti questi tre r attenzione considera sempre queste tre r prima di fare un investimento immobiliare in particolar modo in questo momento in particolar modo in situazioni molto molto difficili come in europa hai la possibilità in maniera tranquilla accompagnata seguita il 200 per cento tu fai l'investimento puoi addirittura venire o nella nostra sede di mantova la sede operativa di mantova o in villa dello spino a concordia sulla secchia sempre in provincia di modena puoi venire a trovarci e puoi fare tutto comodamente dall'italia è chiaro che venire qui è un'altra cosa anche perché noi vogliamo che tu venga qua ti diamo la possibilità di fare dei viaggi esplorativi di dieci giorni ne ce ne sono due al mese in tutti i mesi dell'anno puoi venire qui toccare con mano provare vedere capire effettivamente che cosa stai affrontando che investimento stai affrontando e sarai seguito al cento per cento da tutta la nostra organizzazione quindi investimento in costa rica è fondamentale per diversificare le tue rendite per diversificare il tuo patrimonio e per avere i soldi al sicuro nel famoso mattone sicuro quello che in italia c'era negli anni 80 nei primi anni 90 quando comprare casa era super super elemento qui lo è ok qui lo è oggi e lo sarà per tanti anni perché qui scoprirai che se vieni a trovarci scoprirai la pura vita che c'è solo qui è inutile che te la spiego la devi provare e capirai perché qui questo tipo di vita questo tipo di benefici e questo tipo di investimenti durerà per molti molti anni a venire ok quindi non dimenticare le 3 r mettiti in contatto con me col gruppo con chiunque dei nostri collaboratori clicca sul bottone sul link che troverai assieme a questo video mettiti in contatto non perdere assolutamente queste grandi opportunità ok ci vediamo qui in costa rica o in italia se ti andrà meglio e pura vita ciao ciao